Merti ha lasciato delle offerte per espiare le colpe dei profanatori. Un appunto di Isidora. La madre di Isidora siede alla destra di Amon, come sposa del dio. I razziatori hanno ucciso Nitocris quando lei ha tentato di impedire il saccheggio delle tombe. Isidora ha dovuto seppellire sua madre. Il globo e l'eredità di sua madre sono passati a lei. Ha giurato di vendicarla, ma non aveva i mezzi per farlo. Finora. E poi, anni dopo, Merti è venuta per cercare di fare ammenda per le azioni altrui. L'origine della maledizione. Una bambina privata della madre che chiede vendetta agli dèi. L'inizio è venuta per cercare di ammenda per cercare di ammenda per cercare di ammenda per cercare di ammenda. L'inizio è venuta per cercare di ammenda per cercare di ammenda per cercare di ammenda. L'inizio è venuta per cercare di ammenda per cercare di ammenda.